Ciao a tutti, buonasera e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi è domenica, 14, domani è il 25esimo giorno di liceo Ho iniziato sempre lo vlog adesso, sì lo so che è tardi, tipo sono le 22 Ehm, oddio, cioè perché non riesco ancora a dormire, di solito vado a dormire presto Ma oggi non riesco proprio a dormire Comunque, come è stato e spero che voi stiate bene Ehm, beh, cosa voglio dire? Niente Ehm, sono qua sul letto Sono qua sul letto Ehm, però ho guardato un po' di video, ho guardato un po' di foto Cioè foto, nel senso ho sbirciato Instagram Oddio, mamma mia, aiuto Ehm, ho sbirciato Instagram insieme a mia cugina Ehm, niente, non vedo l'ora di andare a scuola Si ricomincia come se ci fosse una prima volta Poi raga, al liceo sentirsi spaesata è normale Perché comunque, cioè, non so, comunque ti fidi Cioè, all'inizio non ti fidi, scusatemi Però poi alla fine Comunque non agitatevi perché, voglio dire Non c'è niente da agitarsi Sì, ci sarà molta agitazione perché magari fare delle verifiche sì Però è normale Perché nella vita è sempre così quando si va allo studio Ehm, niente, vi do la buonanotte Ci vediamo domani Bella cosa, ne? Comunque, aspetta Prima di chiudere il video volevo Ringraziare tutte le persone che veramente mi hanno supportato in questo periodo Le amicizie che ho fatto Spero di non perderli perché sono veramente importanti per me E Spero Che macello Che macello E niente, devo caricare l'iPhone perché altrimenti non riuscirò a vloggare domani E non riuscirò a usare, a utilizzare nulla Perché altro E Cosa voglio dire? Niente Ah, vi è piaciuto il consiglio? Ditemelo Cioè, del dentifricio, ditemelo Comunque, buonanotte E ci vediamo domani Ciao 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 Grazie. Buongiorno raga, ben svegliati. Comunque, faccio un po' fatica raga, voglio dire. Perché mi sono appena svegliata e adesso mi devo alzare il primo lunedì di prima mattina di domenica. Già raga, non mi voglio alzare, però vedete. Comunque ci vediamo dopo che devo fare colazione e devo fare tutto, insomma. E se non riesco a concludere il video, se sono già sul pulmino, come sempre ci vedremo. Poi ci vedremo dopo quando sarò uscita. Ciao. Sono uscita di casa e ci vediamo sul pulmino. Eccomi qua ragazzi, che corsa stamattina, eh. Abbiamo fatto una corsa immediata, come se dovesse andare in un centro commerciale ma lontano. Però, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E poi, niente. Il giorno dopo, così. Però non succede sempre tutti i lunedì, ma succede tipo quando... Che ne so, c'è? Nel senso che quando abbiamo fretta, per esempio. Anzi, lui, mio padre, ha sempre fretta e pensa che... Che sono lenta, ma lui è lenta. Cioè, io che sono straveloce... Cioè, oddio, se non è tanto... Cioè, lui pensa solo ad essere così. Però vabbè. Cavoli, io non ho pulito l'anello col dente... Oh, mamma. Ragazzi, se noi non abbiamo il dischetto di cotone, cosa dobbiamo fare? Comunque, niente. Ci vediamo dopo questo sedile che ho davanti. Vi ho ripreso lo schienale, ma dettagli. Mamma mia, se non ho pulito l'anello. Comunque, niente. Ci vediamo dopo. Sono arrivata a casa, scusatemi, ma... Non ho più praticamente filmato. Ho mangiato. Ho cercato di comunque fare tutta di fretta. Sono venuta qui per concludere il vlog. Scusatemi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, per favore mettete like. Comunque, il liceo è andato molto bene, come sempre. Anzi, no. Però farò un video sfogo, a parte. Iscrivetevi al canale. Ho mangiato come una botte. Attevate la campanellina per essere sempre aggiornati nel prossimo video. Io vi mando, come sempre, un grossissimo bacio. E al prossimo video. Ciao. E al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti.